Musica Coniccia ragazzi e eccomi tornata con una nuova video ricetta Oggi vi propongo il milkshake all'oreo Che è praticamente così, gli oreo sono dei biscottini che potete ritrovare in qualsiasi supermercato Vi consiglio davvero di rifare questa ricetta Se volete in info box ci sono i link di facebook e di instagram Quindi mi raccomando rifate questa buonissima ricetta con gli oreo Volete scrivetemi nei commenti se la rifate E vi mando un bacio e un abbraccio a tutte E noi ci vediamo in un prossimo video Tra il mattino, vi saluto a bye bye Ragazzi gli ingredienti per fare un milkshake all'oreo sono Dicchie di latte, cioccolato, di oreo ovviamente E favortativo se volete la panna Da montare E ovviamente un frullatore Quindi iniziamo Allora iniziate col mettere nel frullatore Gli oreo, io ne metto quattro Così Il bicchiere di latte E poi prima ho dimenticato di dirvi Che se volete potete aggiungere anche un pochino di vaniglia E adesso iniziamo a frullare Prendiamo la nostra cioccolata E facciamo in questo modo Tutto il bicchiere E versiamo il nostro milkshake Se vogliamo possiamo aggiungere anche la panna Un altro po' di cioccolato sopra E un oreo messo sopra così Ecco qua Beh allora questa ricetta Li sia piaciuta Questo milkshake è davvero buonissimo E niente Per qualsiasi cosa lasciate un commento E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ciao